Siete in piazza anche stamattina per fare in modo che i cittadini non vadano a votare? Sì, stiamo chiedendo aiuto alla popolazione crotonese per la raccolta delle tessere in forma di protesta in merito alla nostra situazione che ormai grava da quattro anni e che al momento non trova una soluzione. Non trova una soluzione, quindi tutto quello che si è detto fino ad oggi che c'era la voglia di andare avanti non esiste? Allora, sì, diciamo in parte non esiste. Abbiamo saputo nei giorni addietro che c'è stato l'interessamento da parte di un potenziale imprenditore che ha chiesto informazioni in merito all'acquisto del perimetro industriale. Vedremo. Noi continueremo la nostra protesta perché dobbiamo farla, dobbiamo far sentire la nostra voce perché Crotone non si può permettere la perdita di tutti questi posti di lavoro. Siamo oltre 500, diciamo in tutta la Calabria siamo mille. Come stanno rispondendo i cittadini? Guardi, non stanno rispondendo, diciamo non sono tante le persone esterne al nostro perimetro occupazionale, nel senso della nostra azienda, ma la gente risponde. Abbiamo avuto gente che ci ha portato la tessera anche in forma di solidarietà nei nostri confronti. Grazie. Grazie. Grazie.